Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con me la Luxury sono qui ragazzi per portarvi un nuovo episodio della comeback challenge La serie in cui noi giochiamo coi pugni fin quando gli avversari non raggiungono un numero di kill Che abbiamo prefissato prima dell'inizio del video E da quel momento giochiamo con le armi per andare a comebackare il divario Siamo arrivati ragazzi a un punto veramente importante di questa serie Perché oggi andremo a comebackare 22 Cioè gli avversari dovranno arrivare a 22 prima di permetterti di giocare con le armi Sarà veramente tosta ragazzi Quindi vi dico siccome ho fatto un salto di due posizioni Se avete notato nel senso del percentile Il video era 20 Ho deciso di fare direttamente 22 Se sto video ragionate i 10.000 like Il prossimo sarà direttamente 24 E voi non avete idea di quanto sta diventando difficile questa cosa Cioè non avete proprio idea Quindi vi lascio al video ragazzi Mi raccomando supportate questa serie E ci becchiamo in partita E poi ci becchiamo stasera Con un altro video Bella Ok ragazzi sono una lobby Sarà veramente dura Durissima Perché a sto giro 22 di kill e kamekare Cioè non sono facili Non sono proprio facili Ma proprio per niente ragazzi Veramente secondo me Non ce la faremo mai Detto più francamente Ma perché È troppo poco la distanza tra le 22 kill e le 30 Cioè loro Una volta che arrivano a 22 Devono farne solo 8 per vincere Io invece ne devo fare un botto L'unica cosa che posso fare È fare tantissimi kill con i pugni Ma non dipende da me raga Cioè non dipende proprio da me Quindi Poi c'è questo livello 507 Ma dai ma Ma porca troia Che mi killa subito Andiamo qua va Se riesco a fare un buon numero di kill con i pugni Posso sperare di riuscirci Ma non succederà mai quindi Posso anche togliermi dalla testa questa Speranza Che prima kill vai E quello è già 3 2 E quello è ancora 3 Raga parlerò veramente poco in sto video Perché Questa sfida è forse la più difficile che faccio in live Quindi Madonna Quelle a 4 noi siamo a 2 Comunque va bene per ora Stiamo killando abbastanza Andiamo qua Nessuno Quelle già 6 Ok Questo è sempre qui Ok Siamo a 3 Perfetto Andiamo qui Nessuno Con le asset raga Sempre Perfetto a 4 Le a 9 Questo al cecchino potrebbe essere un'altra kill Bella All'hater Oh mio dio Non ci credo Ma perché i miei alleati Devono fare Cioè i miei altri avversari Devono farsi chiamare l'hater Da shad Yellow Madonna Non ho mai preso un hater in vitamin Ti vi giuro mai Cazzo Ma vabbè qualcuno l'avrò preso Ma Molto rari casi Olè Sono terzo con i pugni raga Cazzo Se continuiamo di questo passo Non è impossibile Però quello c'ha il visat Capite C'è quello kill La manetta adesso Però allo stesso tempo E' uno che sta molto camper Magari vuole fare il nuclearizzato E chiaramente Se io metto le armi Dopo Nuclearizzato Questo qua Non lo farà mai Perché Farò un botto di kill Ok Sono a 7 Facendo un sacco di kill Mamma mia raga Siamo a 8 Tantissimo E vi giuro che è tantissimo 8 kill con i pugni Andiamo qua su Ok Let's go Siamo a 9 Quello è sempre Raga va benissimo Cioè E come vi ho già detto Queste kill Queste cifre così alte Quindi 22 come oggi Fino ad arrivare al massimo Che sarà 29 Si potranno fare Semplicemente Se io riuscirò a Fare molte kill con i pugni Se no è impossibile La sfida è proprio questo Molti l'hanno capito Non è proprio una sfida Fare un comeback E' impossibile Cambaccare 22 kill Partendo da 0 Neanche giochi contro i lesi Cioè è impossibile La sfida sta Andando a riuscire a fare Tanti kill con i pugni E poi Darsi da fare con le armi E essere ancora più veloci Questo mi ha rotto proprio il cazzo Sparami dal lato Comunque sono ancora a 16 E noi siamo a 9 Possiamo provarci raga Possiamo provarci Questi sono hanno capito Che appena metto le armi Lì violento Non c'è nessuno E' a 17 E' morto 17 1 Godo che ti hanno ucciso Pippa Raga Mi sa che non riusciamo più a fare una kill qua Cioè sto beccando Tutti i gente che corre Da lontano Non ho ancora beccato Uno fermo Di spalle magari Vabbè noi Continuiamo per la nostra strada Qua nessuno Qua nessuno Che cazzo sono Che cazzo sono Impossibile raga Impossibile proprio Ha un'attacca al primo Mio dio godo Che cazzo è successo Un'attacca Se crash È la svolta Raga Sono zittissimo Ma veramente Sono stra concentrata Questo giro Questo scappa Una kill dopo ore Raga Siamo a 10 E lui ha 18 A 20 inizia a switchare E a 22 inizia a killare Questo è quello che lag È il primo Let's go Non c'è nessuno È a 20 Switch È il primo raga Ok Perfetto Tra una kill senza killare Raga Tra una kill senza killare Oddio no Ce l'ho qui Ok senza killare raga Se fa un'altra kill Vale come 23 Ve lo dico Non è morto Perfetto E ora Ora si entra in scena Si entra in scena raga Ora si macina Non mi devo mai fermare Ma dove sono? Ok Quella 23 Sto zitto ve lo dico Perché c'è qua C'è solo da concentrarsi È mai possibile che devo trovare Tutta la gente che scappa 25 raga Adesso ha iniziato a killare Incredibilmente Ha appena messo le armi Perché non viene a ammazzare Ma è bastardo Che lo kill Questo è lui No Contra attacco Wavinza Ma rompere il cazzo È sempre a 25 Muori È a 25 Sempre a 25 Torrettina tattica qua No raga Sono un idiota Vabbè c'è la torretta Raga è a 25 ancora Mi hanno già distrutto la torretta Vi odio Vi odio a morte Muori Pippa Perfetto Era il primo Quello raga Sono a 22 Lui è a 25 Raga Mori Cazzo Cazzo No le stun Nel sedere Te la devi mettere Raga è ancora a 25 Sono a 24 No 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 Siamo pari Oh mio dio Cosa ti ho fatto Sono primo No Ok sono primo Nemico a terra Cazzo No guardalo Guardalo Ladri di merda Siamo pari Raga No No è primo Pezzo di merda Sono due No Mori Schifo Ultima kill E vince E ce la fa Mamma mia Raga ne avevamo Due a 20 Una a 29 Una a 28 Un'altra a 28 Mamma mia Che partita Ma non mi ricapiterà mai più Una cadaglia nera Raga Così combattuta Sino alla fine Vi giuro Raga scusate se ho parato poco Ma veramente C'è Una concentrazione Per fare questa cosa Incredibile raga Cioè voi provate a farlo Provate a giocare con i pugni Sino a 22 E poi a cambiare con le armi Ditemi cosa Cosa riuscite a fare raga Veramente assurdo Assurdo Va bene Raga direi che Sta sfida è andata bene Facciamo anche il gesto Della vittoria Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi invito almeno A lasciare 10 Melle di piace Perché sta sfida Epocale raga Sarà sempre più difficile Sempre più difficile Cioè la prossima volta Andremo direttamente a 24 Mi sa Se volete appunto Che arriva a 24 10 mila di piace E ora ragazzi Niente vi lascio A fare i cazzi di oltre Ci becchiamo stasera Alle 18 con un nuovo video Bella